buongiorno e benvenuti a tutti dai senza tempo salutiamo oggi con noi simo ciao ciao a tutti ciao 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 volevo iniziare la puntata facendo un appunto su quello che è stato l'ultimo argomento della puntata precedente ovvero l'app quibi purtroppo rispetto a quanto detto c'è stato un peggioramento notevole nel senso sì l'applicazione era stata scaricata da tante persone ma questa situazione non ha aiutato l'app quibi diciamo che di solito parliamo sempre che sono delle tragedie vulcani che esplodono ponti che cadono stavolta la tragedia fra virgolette questa applicazione ci limitiamo a qui non è ancora fallita ci stanno riprovando però chiaramente l'intento principale di quibi è una visione breve che sia quindi fruibile durante una pausa dal lavoro mentre si va al lavoro magari con l'autobus in macchina qualcosa di breve da vedere in una pausa non avendo delle pause ma e non avendo tanto tempo a disposizione esatto probabilmente è stato il momento peggiore di lancio per quest'app inoltre hanno subito anche delle gli sono state fatte delle accuse di aver copiato una delle serie da da un'altra che era stata fatta online continuo a credere nella nella possibilità del nelle possibilità del progetto però non è andata proprio benissimo come sembrava la scorsa settimana detto questo possiamo partire con gli argomenti odier oggi tiger king una serie che sta avendo un successo notevole di cui ha parlato addirittura il presidente degli stati uniti sì sì è una serie che sta avendo un riscontro pazzesco a più di 60 milioni di views mi sembra forse anche dettata dal fatto che siamo tutti a casa quindi è più facile che siamo tutti davanti allo schermo a guardare qualcosa però è anche perché mostra il lato di un america che ancora di più per noi è allucinante assolutamente io ne ho guardato solo una puntata a me è bastata ecco 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 sì 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 io sono un appassionato di documentari su personaggi discutibili che però sono incredibilmente hanno hanno un lato affascinante mettiamola così in questo caso si parla di questo Joe Exotic che è un allevatore di tigri e anche altri animali però le tigri sono un po il la caratteristica principale del personaggio che se la prende a morte con una un attivista che invece per la difesa degli animali che è carol baskin e da lì nasce una guerra tra loro due che poi include anche altri personaggi che usciranno di durante la serie che poi porta a quello che è il diciamo il motivo principale per cui inizia la serie che è la condanna di Joe Exotic al carcere per il presunto soldamento di un sicario per uccidere questa per uccidere carol baskin problema è che al di là del è bella non è bella questa serie è fatta bene non è fatta bene escono fuori dei personaggi dei quali alla fine solo Exotic è in galera ma guardando tutta la serie ti chiedi perché non lo siano tutti è quello che mi ha fatto veramente incazzare di questa serie perché carol baskin che è questa attivista che difende gli animali e combatte lo zoo perché poi lui ha uno zoo di Joe Exotic ma non solo quello di Joe Exotic ma anche quello di doc ento che è un altro che fa la stessa cosa però lei lei stessa guardando poi il documentario non appare come una vera attivista appare come una che in realtà ha il suo zoo e tira acqua al suo mulino. Esatto infatti nella prima puntata è proprio quello che salta alla luce questo aspetto cioè che lei critica tanto gli altri due fondatori di questi zoo perché ricordiamo che Joe ha più di 200 tigri cioè una cosa immensa ma lei di contro anche lei ha aperto un suo zoo in cui comunque gli animali sono sempre in gabbia anzi in gabbie anche da quello che appare abbastanza piccole quindi sembra un po' ipocrita come accusa. Sì poi anche lì ovviamente poi ho letto che dopo l'uscita del documentario lei chiaramente è forse quella che si è lamentata di più perché secondo lei Netflix la fa apparire in un modo totalmente diverso primo proprio anche per il discorso delle gabbie che sembrano piccole in realtà non lo sono ma e ovviamente poi io non mi ricordo se già nella prima puntata che hai visto tu viene affrontato ma poi esce un particolare clamoroso cioè negli anni adesso mi sembra 80 fine 80 è scomparso suo marito e questo non viene detto e sostengono tutti che l'abbia ucciso lei perché lui era un miliardario pazzesco e lei invece era fondamentalmente non c'aveva un soldo si conoscono per caso lui si innamora lui era già sposato lei riesce a tirarlo via dalla famiglia si risposano loro due poi però a un certo punto ovviamente nel motivo nel momento in cui tutti sembrano sapere che stanno litigando che lui voleva lasciarla quindi ci sono tutte delle delle tematiche interessanti all'improvviso lui scompare ma l'ha mai ritrovato o mai più no 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 ancora adesso è un mistero e anzi ovviamente essendo un caso molto vecchio le indagini erano chiuse ci avevano rinunciato dopo la serie pare che abbiano riaperto le indagini a lei che dovrebbe essere tra virgolette la vittima è andata malissimo dopo questo documentario io sinceramente ne sono contento perché ripeto magari è solo una mia impressione per carità metto tutto in dubbio ma lei non mi sta simpatica per niente non appare per niente bene in questo documentario anzi sembra una che sfrutta le persone che amano gli animali per farsi i cavoli suoi e fare un sacco di soldi è veramente cioè io vi giuro durante la visione della serie poi anche Joe Exotic fa delle cose che non stanno né in cielo né in terra ma soprattutto nelle prime due puntate sembra più malata lei di lui lui sembra un personaggio molto bizzarro ma alla fine sembra quasi meglio di lei sì sì con scopi comunque tra virgolette benefici un buono bizzarro sì sì comunque appunto è guardatela è una serie che se volete vedere un po' com'è l'america e perché ci stupiamo sempre tanto che lì ci sia pieno di persone che cercano di far chiudere il mercato delle armi no di di non permettere più la compravendita delle armi è per questo motivo perché escono fuori dei personaggi che veramente da noi magari esistono non dico di no però vedere che vengono intervistati non sono in galera dicono quello che fanno e ne escono anche bene è scioccante perché se Joe Exotic è bizzarro e faceva delle cose assurde però almeno lui è in galera Doc Cantor viene fuori sembra che lui praticamente il suo zoo sia una setta ai livelli sembra una sorta di Charles Manson con gli animali poi a un certo punto viene intervistato sì 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 a un certo punto viene intervistato uno spacciatore che è famosissimo sul quale poi vorrei informarmi di più perché sembra quasi una sorta di piccolo El Chapo che è stato arrestato come spacciatore all'epoca hanno ha evidentemente ucciso delle persone e lo dice lui durante un'intervista dice no però in realtà non le ho uccise io cioè si erano nella mia erano nel mio appartamento però non le ho uccise le ho fatte uccidere ok fatto sta che gli avevano dato mi sembra cento anni di galera lui è andato in appello gliene hanno dati 12 e ora è libero tranquillo e fa le interviste io io quando ho visto questa cosa ti giuro mi sono alzato dal divano in preda a una crisi cosa sto guardando e credo che sia il motivo per cui comunque in generale questa serie ha fatto così scalpore non solo per la storia principale che comunque si possono trarre da questi da questa serie infatti il la prima puntata che ho visto io quello che mi ha colpito di più è proprio innanzitutto il fatto che appunto loro possano comprare armi così andando proprio nei negozi di armi e praticamente chiunque possa prenderle comprarle e infatti adesso quando c'è stata questa la pandemia mondiale mentre nel resto del mondo ciò che andava a ruba nei supermercati era la carta igienica il cibo in america c'è stata un una compravendita assurda di di armi quindi sono andati tutti a comprare le armi in america erano in america le armi e però la carta igienica anche era era una cosa anche la carta igienica ma andava a comprare le armi così per potersi o difendere o rubare la spesa a qualcuno quindi proprio difendere da chi andava a rubargli la carta igienica sì per noi non esiste incredibile e questo cari francesi avere il bidet aiuta e l'altro aspetto che mi ha fatto riflettere è la libertà quindi tutto ciò che a noi sembra assurdo però loro invece lo vedono come nel loro paese c'è la libertà di poter fare qualsiasi cosa anche queste cose fuori dal mondo però purtroppo il discorso libertà è sempre complicato un po da affrontare perché il famoso detto la libertà la mia libertà finisce dove inizia quello di un altro è difficile stabilire che cosa sia la libertà se citiamo qualche canzone italiana prendiamo gaber per gaber la libertà è poter partecipazione quindi poter votare oppure la libertà può essere secondo un altro cantante che mi piace molto che è bertoli buonanima la mancanza di ipocrisie quindi è difficile come poter affrontare questo discorso però in effetti in america è la libertà di poter fare tutto ciò che vuoi anche se dal nostro punto di vista appunto è diciamo ma com'è possibile perché noi non siamo abituati avere tutta questa libertà anche soprattutto nelle cose che potrebbero essere oggettivamente sbagliate aggiungo una piccola nota di colore giusto per non essere tutto così nero durante il documentario Joe Exotic tra le varie cose che fa perché lui faceva questo programma in streaming tra le varie cose che faceva c'è anche delle canzoni decisamente agghiaccianti e quando tu non l'hai vista ma durante la parte che riguarda questo presunto omicidio del marito di Carol Baskin loro ovviamente cioè Joe Exotic, Doc Ant sono tutti d'accordo sul fatto che sia stata lei e lui ci ha fatto una canzone che si chiama Here Kitty Kitty mi sembra c'era una ragazza che interpretava Carol Baskin nel video perché c'è anche il video che dà da mangiare la carne alle tigri perché loro dicono che lei per far sparire il corpo ha dato da mangiare il marito alle sue tigri e un paio di giorni fa gli Offspring hanno fatto la cover di questo pezzo la metteremo, metterò il video nei link in descrizione certo, come sempre tutti gli argomenti che affrontiamo li trovate poi nei vari link in descrizione questo, il fatto comunque di parlare di armi ci può dare l'assist per parlare di un altro argomento che avevamo già anticipato nella scorsa puntata cioè di un personaggio, ovviamente immaginario, che ha il nome Tony Stark Tony Stark per sua stessa definizione è genio, migliardario, playboy, filantropo chi sarebbe Tony Stark? Tony Stark è Iron Man quindi parliamo un po' del mondo Marvel in che senso? Allora, innanzitutto adesso vogliamo parlare un po' dei film del Marvel Cinematic Universe però non è facile parlare di questi film innanzitutto perché sono tanti, perché sono 23 film suddivisi in diverse fasi e sono film, un conto è averli vissuti durante gli anni in cui sono stati pubblicati al cinema e un conto invece è vederli poi a posteriori la differenza sostanziale che poi è a posteriori me li posso guardare se ho tempo, come in questo periodo noi tutti abbiamo posso recuperarli e guardarli uno dietro l'altro mentre quando sono usciti da un film all'altro bisogna aspettare degli anni quindi c'era un'attesa, c'era un hype molto più alto comunque questi film si possono un po' paragonare a una serie tv perché alla fine c'è una macro storia che unisce in qualche modo tutti i film e poi ogni film stesso è come se fosse una puntata in cui si parla di quel determinato personaggio tutti insieme formano la cosiddetta saga dell'infinito perché pian piano in tutti questi 23 film scopriremo cosa sono le gemme dell'infinito ognuna ha un potere di manipolare un aspetto dell'esistenza reale, umana come può essere il tempo, come può essere lo spazio, come può essere il potere stesso e i cattivi di turno cercano di impossessarsi di queste gemme per sfruttarne il potenziale questi potrebbero essere, secondo molti, così ho l'apparenza, dei film che possono riguardare cosa ne so, interessare solo i nerd o quegli appassionati di fumetti specifici però secondo me tutti si possono ritrovare ed emozionare in questi film perché vengono sviluppate tematiche che fanno parte della vita quotidiana di tutti come l'amore, come l'amicizia, come l'odio, come il tradimento, la perdita, il perdono, il cambiamento quindi alla fine tutti si possono ritrovare nei vari aspetti che vengono narrati in questi film e quindi di conseguenza affessionarsi ai personaggi stessi e emozionarsi in qualche modo per le vicende che accadono durante tutto questo arco temporale dei film i film sono suddivisi in tre fasi in questi giorni sarebbe dovuto uscire il primo film della quarta fase era il film sulla vedova nera che però è stato rimandato a novembre sì, c'era stata la possibilità che lo mettessero sul Disney Plus avevano paventato questa opzione poi però non erano convinti non erano convinti soprattutto per un aspetto economico perché il film della vedova nera è uno di quelli in cui hanno speso più soldi per poterlo realizzare e quindi il ritorno economico ovviamente non sarebbe stato assolutamente lo stesso dicevamo appunto che sono suddivisi in tre fasi la prima fase si nota che il budget iniziale in effetti era abbastanza basso nel senso che la qualità dei film vista a posteriori si nota che non è niente di così esaltante però la prima fase comunque è fondamentale perché nella prima fase vengono presentati i personaggi alla fine principali il già citato Iron Man quindi Tony Stark che è poi il personaggio che compare di più in tutti i film Marvel perché compare ben dodici volte che è interpretato da Robert Downey Jr. che era già famoso ben prima di diventare Iron Man nella sua carriera ha vinto ben tra Golden Globe di cui uno per Ellie McBeal la serie di qualche anno fa e è stato anche candidato a due premi Oscar nel 1993 con Charlotte cui faceva Charlie Chaplin e non so per quale motivo nel 2009 per i film Tropic Thunder perché Tropic Thunder è uno spasso e non so ma addirittura nominarlo come attore miglior attore non protagonista mi sembrava un po' sì torniamo al discorso del sì è un po' troppo forse non pensavo può essere interessante il motivo per cui è stato scelto Robert Downey Jr. nel senso siccome il personaggio di Tony Stark comunque è un personaggio con dei problemi nel senso a livello caratteriale, emozionale ed è uno anche se nei film forse non è espressa così tanto però è uno che beve nel film non si nota così tanto cioè è egocentrico ma non così tanto insomma è un personaggio abbastanza che si devasti sopra le parti ecco e Robert Downey Jr. prima di fare Iron Man faceva la stessa cosa non era nel suo momento migliore è brutto da dire però almeno la storia narra che tra le varie possibilità visto che non era l'unico però lui sia stato scelto perché rispecchiava un po' le caratteristiche del vero Tony Stark l'altro personaggio che è interpretato da Chris Evans che è Capitano America anche lui si vede ben 11 volte appare 11 volte Chris Evans qualcuno potrebbe averlo già visto in un altro ruolo di un personaggio un supereroe Marvel ma non ce lo vogliamo ricordare non è mai successo purtroppo sì comunque Chris Evans era il personaggio della torcia umana nei Fantastici 4 loro due quindi sia Iron Man sia Capitano America alla fine appunto sono quelli che cambiano di più durante tutti questi film perché mentre Iron Man all'inizio è egoista esibizionista poi col passare del tempo essendo anche più maturo d'età diventa più saggio mentre Cap all'inizio invece è superligio che appunto perché Capitano America nasce come soldato e pian piano invece si rende conto che i valori che lui pensava di rappresentare in qualche modo fanno parte del suo carattere ma non delle forze dell'esercito che lui andava in cui lui credeva e infatti pian piano diventerà tra virgolette un ribelle l'altro personaggio principale è sicuramente Thor che è cui attore è Chris Hemsworth forse fra i vari attori è quello che poi ha fatto più film a parte i film Marvel perché comunque ha fatto anche Biancaneve Cacciatore ha fatto anche Moby Dick ha fatto anche purtroppo Rush ha fatto Man in Black l'ultimo e in cui vabbè lui veste i panni di Thor che comunque è ispirato come personaggio alla famosa divinità della mitologia nordica cioè il dio del tuono gli altri personaggi principali andando molto veloci sono Hulk che però ha avuto un cambio di attore eh sì perché il film quindi l'incredibile Hulk l'attore di quel film è Edward Norton mentre poi viene sostituito da Mark Ruffalo Edward Norton è un attore che io adoro però purtroppo è famoso per essere uno dei peggiori caratteri con cui avere a che fare e pare che credo sia successo anche su Hulk adesso potrei sbagliarmi lui abbia questa tendenza ad arrivare a portare sceneggiature riscritte da lui insomma a voler prendere possesso della pellicola che sta girando anche quando ci sono evidentemente altre persone in quei ruoli quindi diciamo che rende molto difficile collaborare con lui e a quello che ho capito quando è stata una decisione sofferta per la continuity dei film però erano molto contenti di non avere più a che fare con Edward Norton cioè se ne sono liberati facilmente gli altri due attori e personaggi principali del mondo Marvel sono la vedova nera cui attrice è Scarlett Johansson e Jeremy Runner che è Occhio di Falco che è l'unico che avrà poi una sua serie su Disney Plus cosa che mi sconvolge sinceramente perché probabilmente per non fare un film solo su di lui che forse non avrebbe avuto tutto il suo successo hanno preferito come ne so fare una mini serie di 5-6 puntate solo sulla sua storia e toglierselo un po' Ah ecco così mi torna giusto non ci fanno il film perché tanto non sfigato allora facciamoci una serietta lui sì diciamo che molte persone si possono ritrovare nei suoi panni nel senso che siamo tutti esseri umani come lui diciamo ok questo possiamo fare più di questo no comunque tutti questi film hanno anche introdotto una rivoluzione fra virgolette nel mondo della filmologia cioè alla fine di ogni film c'è almeno una scena che dà degli spunti degli indizi su quello che avverrà nel film successivo quindi un indizio per la macro storia principale più di solito anche almeno una scena invece più simpatica dopo il titolo di coda relativa a quel determinato film ogni fase finisce con un film corale quindi in cui tutti i vari singoli personaggi supereroi si uniscono e sono i famosi Avengers la seconda fase si vede già che il budget è più alto rispetto alla prima quindi i film della prima fase hanno portato dei proventi notevoli e c'è anche un cambio di mood di questi film nel senso che mentre la prima fase i vari personaggi sono film non dico comici però sono film leggeri ecco nella seconda fase invece ogni film è molto più cupo fa vedere degli aspetti più introspettivi dei vari personaggi vengono anche nella seconda fase aggiunti ovviamente dei nuovi personaggi che sono i guardiani della galassia e Ant-Man ecco Ant-Man è l'unico del quale io però non ho ancora visto il secondo film l'ho saltato sì il secondo film fa parte della terza fase però questo ci dà l'assist per fare un'aggiunta alla puntata precedente in cui abbiamo parlato appunto di Disney Plus in cui Ant-Man 2 c'è presente però se andate a sfogliare il catalogo non c'è e l'unico modo per trovarlo è fare la ricerca cioè se lo andate a cercare esiste sì questo purtroppo è uno dei problemi che non avevamo detto nella puntata precedente però avviene per parecchi film andando velocissime alla fase 3 ovviamente la fase più costosa però probabilmente anche la fase più bella per i fan perché è la fase conclusiva e c'è il film che si intitola Avengers Endgame che ha il record di incassi globale nella storia del cinema con 2 miliardi 797 milioni 800 mila e rotti dollari di incasso a fronte di un budget di produzione di 356 milioni sì è famoso per aver superato Avatar che teneva questo questo record dal 2009 però c'è da fare una piccola precisazione che questo record è valido per i tempi nostri mentre se si va a guardare lo stesso record ma con il calcolo dell'inflazione ancora adesso al primo posto c'è via col vento saldo saldo lì ok vabbè in questa nuova fase ovviamente ci sono nuovi personaggi perché a ogni fase vengono introdotti appunto nuovi supereroi sicuramente i più importanti sono Dotto Strange Spider-Man e Capitan Marvel il personaggio più odioso della storia dei film Marvel ok così abbiamo fatto una panoramica generale parliamo molto velocemente di una personale classifica dei film che ci sono piaciuti di più io premetto due cose importanti non non sono un lettore dei fumetti non so quindi come vanno io quindi prendo i film per come sono per quello che mi fanno vedere e non se siano meno fedeli ai fumetti quindi se una cosa che a me è piaciuta è completamente sbagliata nella fedeltà al fumetto mi dispiace però io li guardo per come sono io idem io il fumetto è giusto Civil War e basta quindi non sono così nerd appassionato da fare dei confronti l'altra cosa è che decisamente io noto di essere particolarmente in disaccordo con molti fan perché uno dei film che mi ha divertito e mi è piaciuto di più è Thor Ragnarok ammetto che la prima scena la primissima scena che ho visto di quella con Thor incatenato che parla con il demone e il demone parla e lui gira su se stesso su queste catene e gli dice no aspetta non è uno spoiler ma c'è già nel trailer quindi si no ma è proprio il primo minuto di film e lui gli dice no aspetta perché sta girando su questa catena perché è legato diciamo e quindi aspetta che di girare di essergli di fronte per poterlo ascoltare ero rimasto allibito ho detto ok se questo è il livello del film hanno ragione è tremendo invece dopo mi ha divertito le musiche poi va bene io sono un fan degli anni 80 quindi forse è più facile però ci sono cose e cose visto che gli anni 80 li utilizzano tantissimo nell'ultimo periodo non sempre mi piacciono e i colori di Thor Ragnarok li ho trovati belli perché comunque è un film dei fumetti non è che pretendo che siano film con chissà quali artisticità quindi sì i colori sgargianti va bene metto la musica dei Led Zeppelin mentre c'è un combattimento figata e soprattutto ho trovato che il combattimento Hulk Thor sempre nel trailer non spoiler ma comunque c'è sempre nel trailer si ha fatto benissimo rende da morire ha delle scene meravigliose poi c'è Jeff Goldblum come abbiamo anticipato scorsa volta però al primo posto mio c'è Infinity War ok ma semplicemente perché è il film che come è successo anche io riassumendo basterebbe guardare il video che fece qualche anno fa io Tobi lo youtuber su tutto le cinematiche universe io sono abbastanza ho avuto più o meno il suo percorso ho visto i primi film avevo visto ero arrivato agli Avengers che mi era piaciuto poi avevo perso un po' di interesse alcuni film non mi avevano preso molto insomma non li avevo più guardati quando è uscito Infinity War quindi voglio dire ne ho saltati parecchi una fase una fase e mezza ne ho sentito talmente tanto parlare bene talmente io ho detto ma non è possibile però mi è venuta la curiosità così ho cercato di recuperare quasi tutti i film ne ho recuperati un po' poi ho detto vabbè non ce la farò mai sarebbe servito un periodo come questo per farlo così ho detto vabbè lo guardo non ci capirò niente ma lo guardo invece diciamo che più o meno comunque la storia non è così complicata si riesce a seguire assolutamente si riesce a seguire comunque certo magari non si notano certi particolari certe chicche però il film di per sé lo riesce a vedere tranquilli mi rendo conto comunque di essere un eretico per molti di aver fatto una cosa che io stesso non farei mai in altri casi perché non si può mai guardare un seguito senza aver visto prima il primo film e mi riportò la fiducia nei film Marvel era talmente bello e fatto bene a mio avviso sempre parlando di film di supereroi e mi fece venire voglia di vedere quelli che mi ero perso ce n'erano alcuni che continuano a essere dimenticabili ma Thor Ragnarok fu uno di questi e quindi Infinity War e Thor Ragnarok sono direttamente collegati per me in cima alla classifica insieme a questi due aggiungo Guardiani della Galassia il primo trovo che la maggior parte degli attori siano azzeccatissimi a partire da Chris Pratt passando per per Battista per Dave Bautista per chi non lo conosce come wrestler adesso non mi ricordo come si chiama l'attore che interpreta Merle di Walking Dead che interpreta Yondu e anche lui l'ho trovato fantastico grazie a tutti sì 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 cosa aggiungo quindi Guardiani della Galassia e uno dei film Marvel che forse mi ha stupito di più Doctor Strange Doctor Strange a me è piaciuto tantissimo tanti hanno odiato la costruzione del personaggio a me invece è piaciuta cioè hanno tutto il racconto l'hanno trovato pesante a me invece sarà che non ho letto i fumetti sarà che non so niente però l'ho trovato interessante ma soprattutto ho amato qui vabbè non faccio spoiler ma ho amato il finale la lotta con il cattivo questo non è spoiler perché più o meno in ogni film è così e a grande mia sorpresa perché quando uscì non ero per niente convinto il primo Spider-Man Homecoming Homecoming grazie anche all'interpretazione di Michael Keaton che fa un po' alzare il livello del film per me per chi non l'ha mai visto cercando di non fare spoiler ma c'è una scena in particolare che alza il film proprio lo eleva che è un dialogo che hanno Michael Keaton e Tom Holland in macchina ed è un detto non detto bellissimo la mia classifica invece è ti piace vincere facile il mio film preferito di tutti i tempi rimarrà sempre Infinity War perché secondo me è inarrivabile e poi per un fan fra virgolette come posso essere io è la prima volta che tutti i vari supereroi si incontrano i vari supereroi di realtà diverse iniziano a collaborare fra di loro al secondo posto ci metto Iron Man 3 ma perché Iron Man è il mio personaggio preferito sia perché è tecnologico sia perché è miliardario come me e Playboy come film mi piace perché comunque lui da spavaldo e da egoista esibizionista diventa molto più pauroso ha un cambiamento di personalità notevole e poi al terzo posto Capitano America 3 Civil War perché comunque anche in quel caso ci sono tutti personaggi che si riuniscono in qualche modo quindi ti colpisce oppure un film che so che invece a te probabilmente non è piaciuto tanto che è Capitano America 2 quindi The Winter Soldier perché comunque secondo me come film generale potrebbe essere visto un po' da chiunque e apprezzato come se fosse fra virgolette un film stand alone cioè slegato da tutto il resto del del panorama Marvel non vuoi dirmi però quali sono anche secondo te i peggiori in realtà l'hai detto forse Capitan Marvel sì Capitan Marvel sicuramente è un film che ti fa odiare il personaggio e probabilmente anche tutto questo mondo dei supereroi ma perché lei come personaggio è odiosa forse come regia non è come film di per sé non è il film peggiore ma lei è talmente odiosa che sicuramente è uno dei film più bassi in classifica da consigliare a vedere le persone provo ad aggiungerne altri due vai devo fare quello cattivo per me a proposito della regia di certe scelte uno tra i peggiori dell'epoca era il primo Capitan America assolutamente nonostante io ami Hugo Weaving Teschio Rosso che lui poi è stato il primo a dire no io non ho mai fatto non ne voglio più sapere però a me lui piaceva tutto quello che vuoi ma il primo film io ho fatto fatica a vederlo finire sarà anche che non amo Capitan America come personaggio però mamma mia e poi aggiungo qua ti farò male Iron Man 2 io non l'ho sopportato è uno dei motivi per cui avevo mollato le saghe Marvel e poi lì lo dico invece facendo del male anche a me stesso perché mi piacciono da morire però ho odiato la storia in questo caso non tanto la realizzazione del film ma la storia so che invece tanti la bravo assolutamente sì sì in questi 23 film ovviamente non è che sono tutti dei capolavori ci mancherebbe condivido in pieno sia su Iron Man 2 sia su Capitano America 1 e infatti come dicevo prima quando parlavo della fase 1 sono film molto lenti molto non dico banali però che capisco perché molte persone possono aver abbandonato il mondo Marvel dopo aver visto quei film lì ultime due cose che volevo dire non possiamo non fare una citazione a Stan Lee di cui metteremo in descrizione il link con tutti i suoi camei dei vari film Stan Lee è stato colui fra virgolette ovviamente non da solo ma che ha creato la maggior parte dei fumetti Marvel e in ogni film ha un piccolo cameo ultima cosa volevo dire giusto due curiosità che probabilmente non tutti hanno visto la prima è in Iron Man 2 compare Elon Musk per chi non sapesse chi è Elon Musk è un imprenditore sudafricano ma naturalizzato americano cofondatore di People diventato famoso per la Tesla e adesso lo sarà probabilmente ancora di più perché si è messo a fare i razzi per lo spazio e addirittura la prossima missione della NASA che partirà a fine maggio useranno i suoi razzi e un'altra citazione secondo me carina è che in Capitano America 1 il teschio rosso quando parla il texerat dice il Führer è impegnato a cercare ninnoli nel deserto ed è una battuta che viene detta anche in Indiana Jones i predatori dell'arca perduta grande ultimissima cosa in Capitano America 2 invece il soldato d'inverno Steve Rogers all'inizio del film sta a un taccuino in cui prende degli appunti e quindi in ogni versione relativa al paese in cui è trasmesso la lista cambia quindi c'è una lista americana c'è una lista spagnola c'è una lista inglese c'è una lista italiana infatti in quella italiana ad esempio in questo taccuino cosa vengono scritti le cose che lui si è perso negli anni in cui era congelato nella versione italiana ad esempio c'è scritto Vasco Rossi che tutti magari potrebbero non aver notato tutto qua grazie mille per questo lungo ascolto di questa lunga puntata e ci sentiamo presto con nuovi nuovi argomenti ciao a tutti ciao a tutti